Vergogna, vergogna, avete rotto, la pazienza ha un limite. Non è possibile giocare così ogni volta che si affrontano una trasferta un po' più difficile oppure appena si giocano due partite nel giro di pochi giorni. Dopo Milano e Genova abbiamo detto che questa sconfitta ci serve da lezione. Adesso credo che la lezione l'abbiamo imparata abbastanza. Non si può aspettare la fantomatica Juve di marzo soffrendo così ogni volta e perdendo senza nemmeno scendere in campo. Doha e la Coppa Italia ci avevano dato dei segnali ma evidentemente non li abbiamo ricevuti pur sapendo che la Fiorentina avrebbe fatto la partita della vita. La BBC sembrava Zelig, abbiamo fatto ridere, Kalini ci ha fatto tutto quello che voleva. Per non parlare di Chiesa poi, dopo tutto quello che gli hanno fatto fare dovrebbero andarsi tutti a confessare. Abbiamo preso gol da un lancio di 40 metri e c'è chi si lamenta dell'arbitro. Ma se avessimo vinto nonostante l'arbitro, così come è successo molte volte in questa stagione, nessuno si sarebbe lamentato. E quando si gioca così non si può dare la colpa all'arbitro che sicuramente merita la bocciatura, così come però la meritano Allegri e tutti i nostri giocatori, nessuno escluso. Oggi non si è salvato nessuno. Nemmeno Higuain che ha segnato un gol praticamente regalato. Lo dice anche il nostro inno, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Oggi non ha corso nessuno. Hanno giocato con lo stesso atteggiamento con cui si gioca il trofeo Birra Moretti. Adesso ci aspettano Lazio, Milano in Coppa Italia e poi Sassuolo e Inter. Nel frattempo ci toccherà assorbirci per almeno una settimana l'Inter del nuovo Pirlo, Gagliardini, Roma e Napoli da Scudetto. E magari anche le tazze viola con scritto 2-1. Ma è normale, sono squadre che vincendo contro la Juve salvano la stagione rendendo felice mezza nazione che da 5 anni è in perenne frustrazione. Alla prossima!